Ciao ragazzi, dunque benvenuti in questo nuovo video. Come già detto nel video prima, parlando della primavera, stavo guardando Cuneo-Juventus e questo appunto è il video post. Cuneo-Juventus terminato 2-1 per il Cuneo, partita giocata sotto un'intensa nevicata che ha reso il campo già difficile di suo, quasi impraticabile. Il Cuneo ha sfruttato bene le palline attive, o meglio ha sfruttato bene il suo secondo gol alla pallina attiva, sul primo ha sfruttato un'indecisione di Del Favero. Cuneo che si era portato sul 2-0, ricordiamo dunque come è andata la partita, Cuneo è andato subito in vantaggio 1-0 e la Juve ha provato a sbilanciarsi, ha provato a cercare il pareggio ma trovava veramente un muro della difesa del Cuneo che oggi veramente è stato quasi perfetto. Poi su calcio d'angolo, che non è stato battuto subito nel secondo tempo perché l'arbitro ha dovuto sospendere la partita per far sì che i tecnici del campo rifacessero le linee perché non si vedeva più niente per via della nevicata, il Cuneo ha trovato il 2-0. Da lì la Juventus è buttata in maniera anche vehemente in attacco e riuscita con Bunino a trovare il gol del 2-1 ma non è poi più cambiato nulla e a essere onesti credo che sia giusto così, nel senso che il Cuneo se ne è meritato di vincere questa partita, probabilmente 2-0 era troppo, direi che 2-1 credo sia un risultato anche giusto, a malicuore lo dico. Però è così, soprattutto negli ultimi minuti quando una squadra si vede proprio la differenza tra una squadra che è in crescita ma che non è ancora pronta probabilmente per non solo il salto di categoria ma anche per la competitività in questa categoria lo vedi anche negli ultimi minuti quando invece di cercare di giocare il pallone si è buttato il pallone su e sperare che capitasse qualche cosa. Bravo Olivieri che appena entrato ha cambiato forse un pochettino l'attacco della Juve, ha trovato il gol Bunino ma l'azione è nata da lui e ha sfiorato il pareggio di testa, poi per il resto però ripeto troppo poco per poter pensare di fare risultato su un campo dove è stato votato il campo più difficile del girone della Lega Pro della Serie C dove c'è la Juventus dove tutte le squadre più forti hanno faticato proprio perché è un campo molto particolare con un terreno diciamo non perfetto per usare un neofemismo dove chiunque fa fatica ma questa non può essere una giustificazione e Fusco che è arrivato da poco alla Juve ma è due settimane che si parla di un attaccante o due attaccanti che devono arrivare alla Juventus under 23 credo che bisogna muoversi con la chiusura delle trattative perché il campionato va avanti e la Juve necessita in maniera impellente di questi attaccanti perché oggettivamente nulla a togliere a Mavididi, a Olivieri, a Bunino, a Zanimachi eccetera ma c'è molta difficoltà nel trovare situazioni pericolose in fase offensiva per quello serve un altro attaccante almeno uno almeno uno anche se secondo me se dovessero arrivarne due sarebbe meglio e come secondo me bisognerebbe cambiare anche il portiere perché del favore un portiere eccezionale però a tratti troppo a tratti serve un portiere d'esperienza che dia sicurezza perlomeno al reparto ecco tutto qua e ogni tanto del favore lo si può far giocare però non credo che sia un portiere da far giocare fisso importa anche perché oggi il primo gol è suo nel senso che si scappa il pallone tipo quella di Donnarumma su Costa sul gol dell'anno scorso di Coppa Italia e il secondo è andato un po' molle su un colpo di testa che sicuramente era difficile ma non si ribatte mai davanti a te ecco quindi finisce dunque 2 a 1 per il Cuneo non è nulla ancora non è momento di disperarsi però questa squadra come ho detto ha bisogno di qualche rinforzo soprattutto in attacco per cercare di rialzarci e cercare di andare più in alto possibile e soprattutto di salvarsi che è la cosa principale e ragazzi chiudo qua il video Cuneo batte Juventus 2 a 1 ma non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video Ciao